Ciao amici e collezionisti amanti del Topolino nel fumetto Disney, quest'oggi è un rapido sguardo anteprima 387 che ci proietta verso il futuro anno, il 2024, in particolare a gennaio. Oltre al Topolino che rimane nel prezzo invariato 3,50€, ecco il primo grande gadget, medaglie d'autore di Topolino. 8 capolavori da collezione e firmati di Fabio Celoni. È un'iniziativa interessante, collezionabile per quanto ripreciuta negli anni, perché tra banconote, monete, topi, paperi, ormai questo tipo di iniziativa a quanto pare funziona, è assodato. Anche perché il collezionista si interessa a recuperare tutte le medaglie sparsi nei vari albi. Io non farò così. Il gadget, ripeto, è interessante perché io lo ritengo personalmente collezionabile, per quanto costante, per quanto sia una cosa non così, secondo me, interessante, di medaglie, insomma, di qualcosa di già visto, di ripetuto. Però, se dovessi mai recuperarlo, non lo farò in questo modo, ma soltanto, come in realtà ad oggi è sempre accaduto, con un rinnovo d'abbonamento. Solitamente Panini Comics e Avezza fare un rinnovo di tre mesi, cosicché da poter proporre a un prezzo comunque equilibrato, un prezzo onesto, tutto il gadget e il rinnovo stesso di quella durata. Se non ci fosse questa possibilità, io lo eviterò, perché, onestamente, sapete come la penso, evito le ristampe. A maggior ragione il Disney Big, il grande classico, il Paperini, insomma, fumetti che davvero non compro, che ho comprato, comprai in maniera molto sporadica, se non per qualche motivo editoriale e motivo di numerazione. Lascio stare, però il gadget rimane interessante sicuramente. Nella fattura, poi, è Fabio Celoni, queste medaglie appaiono essere di metallo, insomma, il classico blister da inserire qualcosa dentro. Carino, ma nella modalità assolutamente no. PK, i conti con la realtà, 12 euro per 50 pagine, questo è il classico fuoriserie, ormai il quattordicesimo. Caspita, siamo andati veramente oltre le mie aspettative. Bene, sono contento. Non escludo io un domani che mi interesserà recuperare anche i fuoriserie, visto che è probabile che faranno, o hanno già fatto, un cofanetto che li racchiuda tutti, o anche fossero due o tre cofanetti un domani. Però, prima di recuperare i fuoriserie, io devo pensare a PKNA, PK2, PK3, ho fritto le chiamate, insomma. Il vero PK è lì, poi il fuoriserie è un proseguimento di realtà anche il dopo topolino. Anche se nel topolino recentemente apparve la storia di PK, vedremo se sarà questa una costante, rivederlo sul topo oppure solo nei fuoriserie. Ah, ecco, me lo sono chiamato, l'ennesimo cofanetto, con altri sette, da Danza del Ragno d'Oro fino ai Conti con la realtà, più una litografia. Ecco, questo è un prodotto secondo me interessante, 110 euro, wow, mi sembra tanto, mi sembra, ma veramente tanto. A parte che ne abbiamo un altro forse in più, no, Conti con la realtà è l'ultimo, se non vado errato. Sono tanti, 110 euro vuol dire per sette albi più del loro valore, del loro prezzo di listino, perché sette per dodici indicativamente fa 84, se non vado errato. Per cui ci sono quei 26 euro di litografia e di cofanetto, ne va la pena? Boh. Però sicuramente questo è un ottimo modo per recuperarlo per una persona come me che non ha niente e eventualmente fossero esauriti gli albi al suo interno. Io non penso che io sappia soltanto un albo di PK andò esaurito dai fuorisedie, magari sbaglio, uno tra l'altro in Variant Cover, che uscì forse come quarto o quinto albo, ma mi correggerete eventualmente. Ma io non penso che siano esauriti, anche se lo fossero, però pagare 110 euro c'è un grande sovrapprezzo per dei cofanetti carini, però bisogna essere dei picker nel cuore. Io non lo sono, ma non escludo che io un domani queste cose le possa comprare, perché comunque sono storie inedite, create appositamente su PK e fuori dal Topolino in maniera appunto ex nova. Continua Fantomius con le serie imperdibili, ormai le serie imperdibili, storie intramontabili, è diventata una testata un po' battellapesca, mi dispiace, perché di fatto Fantomius non è imperdibile, non è intramontabile. Magari lo diventerà, fra vent'anni spero Fantomius verrà ricordato come personaggio e allora fra vent'anni Fantomius di diritto diventerà una storia imperdibile, intramontabile. Ma se paragoniamo Fantomius a Top the Top e raccontando fuoco in una papera, non ci sta bene, stona. Però d'altronde è un modo per promuovere questa storia che ad oggi, in futuro non si sa, ma ad oggi funziona. Fantomius ha un suo grande pubblico, anche se non me la sarei mai aspettato, Gervasi è un autore molto conosciuto, molto apprezzato, non solo da adulti collezionisti, ma anche da bambini, da ragazzi neofiti o occasionali del mondo, per cui fa piacere vederlo, io ovviamente lascio stare perché sono tutte le storie apparte sul topo. I geniali crimini di macchia nera, Casti, eh sì, trailer collection numero 5, oh, questo io lo prenderò, 18 euro. Mamma mia, i prezzi se lo fanno veramente pagare, insomma, 18 euro, io non ricordo, ma il primo dubito costasse 18, azzarderei 12, non 13. Non capisco se questo è sinonimo di poche vendite, di scarse vendite, oppure sanno che è Casti, sanno che ci sono tante persone, incluso me, che lo comprano e quindi tirano sul prezzo. Dunque, abbiamo storia di Nucci e Casti, forse, con macchia nera? No, sto provando a leggere, direi di no, perché c'è Casti, De Vita, Mangia Torti e Cavazzano. La storia di Nucci è troppo recente per essere ristampata probabilmente, insomma, qualunque cosa sia, allora non sto a perdere tempo, ma è molto interessante per me, anche se le storie le ho già probabilmente ristampate. Chissà che un domani non venga anche ristampato Darkenblot, cosa che comunque io già possiedo sul topo e anche in ristampa, in quella mitica Legendary o Definitive, non ricordo, collection, che io ho recuperato, tra l'altro, in differita. Ma, 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 boh, qualora dovesse essere ristampato Darkenblot nuovamente, io lo prenderò, ma non basterà un albo, perché sono, penso, o 300 o 400, insomma, massimo pagine, un albo non basta. Però, aspettiamoci anche quella serie, secondo me, e io mi aspetterei, anche se sono storie recenti, anche quelle di Marco Nucci, insieme a Casti, perché sono comunque storie veramente carine, che meritano di essere ristampate. E questo, vabbè, lo prendo. Uh, i grandi autori dicendo Bottaro, complimenti, ottima scelta, veramente ottima. Finalmente, tra l'altro, Bottaro non vedeva luce in un fumetto dedicato dai maestri di Disney, sono vaderrato, ovvero da quella testata che proponeva, in maniera filologica, in maniera anche molto interessante, con redazionali, grandi autori, quali Carpi, Bottaro, Candy, Martina, De Vita, Cavazzano, Scarpa, e bentornato Bottaro su un fumetto nuovo, ecco. Per quanto non ci sia nulla di niente, ovviamente, questo è un grande fumetto. Mi riservo dal dire se comprarlo o no, sta a voi il giudizio personale. Io, semplicemente, questa serie di grandi autori la bloccai, perché deluso un po' dalla gestione in sé, con Scarpa e Cavazzano, anche con Carpi, comunque, tra autori, che qualche ristampa dei grandi la ricevettero, anzi, più di uno, in particolare qualcuno di questi tre, Bottaro, in effetti, è un autore che, ripeto, non ha ricevuto, non ricevette ristampe nel breve periodo. Chissà che io posso interessarmi a quest'album. Parliamo comunque di gennaio, quindi ne parleremo, eventualmente. 8 euro, il prezzo rimane invariato, questo significa, da un po' di tempo, significa che la testata funziona, anche con questo nuovo ciclo di grandi autori. Bene, aspettiamoci veramente anche altri grandi autori, perché non sarebbe male. Chissà, un Carlo Candy, chissà, un Giulio Chiarchini. Vabbè. Già di Topolino, ennesimo classico Disney, di Marco Bosco, è quello che cura questo fumetto. Lascio stare, ovviamente. Il classico Disney però ha molto interesse, perché comunque le storie ristampate possono essere interessanti in base al tema, e mai poi raccordate con un prologo e, appunto, un raccordo inedito da questa parte. Marco Bosco. Disney Big arriva al numero 190. Le cover sono molto belle, ma, insomma, evito di commentare ulteriormente, così come in grande classico. Numero 97, gennaio, quindi 98 a febbraio, 99 a marzo, 100 d'aprile. Con un bel pesce d'aprile, grande classico, chissà. Potrebbe anche dire finiamola qua, anche perché sento pareri discordanti su c'è chi ama questa serie e c'è chi invece la trova molto sotto tono, non più sotto tono, ma molto in declino rispetto ai primi numeri. Io, per spezzare una lancia a favore di chi lo compra, penso che dopo quasi 100 numeri è difficile mantenere una regolarità così appassionante sulla testata, così di innovazione. D'altronde le storie, dopo 100 albi quasi, vuol dire averne stampate dalle 400 alle 600, tra storie lunghe e storie brevi. Per cui, onora la grande serie, una serie di riferimento per tanti appassionati, non per i collezionisti, ma per tanti appassionati sì. Vedremo col numero 100 cosa accadrà, se continuerà e quanto. Paperino, ovviamente questo lo recupero, tutto ciò con le medaglie, ma io lo prenderò senza perché la medaglia mi interesserà recuperarla semplicemente con quel metodo che dissi prima. Paperinic, 4.50, a presto mi pare sia rimasto questo anch'esso, pur esso con la medaglietta. Ecco, menzione d'onore abbia questo fumetto, Paperino Superstar, che io non prenderò, ma lessi già su Facebook che essendo Paperino protagonista in discurso del 2024, questo è solo il primo di tanti omaggi. Vedremo, ecco, questo può essere un'aprifila di tante belle cose, penso anche al mondo Lego, ora che mi viene in mente, per i 90 anni, secondo me potrebbero fare una bella statua di Paperino da costruire, per esempio, e perché no vedere qualcosa di succulento anche in casa Panini Comics, con fumetti o con gadget. Paperino, tra l'altro, è un personaggio che in realtà viene omaggiato ogni anno, a differenza del topo, che è più scostante negli omaggi, per cui vedremo cosa ci riserverà al futuro. Sicuramente interessante questo novantesimo, che viene già in qualche modo anticipato già a gennaio, ecco, o a febbraio. Aspettiamoci grandi cose, secondo me. Dio Aperone, anch'esso continuo, con il numero 67, Le più grandi avventure dei supereroi e Best of Aperopoli. Direi nient'altro, esatto, andiamo con la Marvel. Nulla di mio interesse. Che dire, è un'anteprima scarna, ma ricordiamoci che nel mezzo c'è Natale, e quindi solitamente tutti, me compreso, a Natale vorrebbero magari concedersi qualcosa in generale, che sia di fumetto, che sia di oggettistica, che sia per regali altrui, regali ricevuti. Insomma, è un periodo che a me va bene, che sia scarno di novità, anche perché sono molto limitato, tra l'altro Polino, Variant, che a quanto pare manca, a meno che poi esta venga in qualche modo rilasciata o annunciata per Natale, ma mi pare che non ci sia, forse, o forse sì, non mi ricordo, nei commenti magari fatemi sapere, perché ho la memoria un po' corta in merito, ma tra Topolino, Variant, Gadget e Casti, c'è Casti, ciò che mi interessa, la Trilie Collection, e questo gadget solo e soltanto si uscirà con le modalità che tra l'altro sempre vennero fatte in realtà, ecco, speriamo, perché in questo modo evito, ovviamente. Ci ho detto, vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.